Il giro per informare e rendere consapevoli il mondo della scuola, in bambini in particolar modo sul bullismo, continua. Io vorrei partire però da un'altra parte di questo problema e di questo fenomeno così diffuso. Ma questi bambini, i bulli, sono bambini che hanno dei disagi familiari, sono bambini che dovrebbero essere attenzionati diversamente e che si mettono in mostra perché magari hanno anche, non so, del disagio anche affettivo. Guardi, intanto io la ringrazio ancora una volta per essere qui e darmi eco al lavoro che noi facciamo. Lei mi dà lo spunto per dire una cosa molto importante. Molte volte quando andiamo a trattare case di bullismo abbiamo presenti solamente i genitori delle vittime di bullismo, mentre i genitori dei bulli tendono, forse per disimpegno morale, a stare fuori da queste dinamiche. Come ho già ripetuto tante volte, nella nostra opera cerchiamo di salvare sia le vittime che il bullo. Il bullo non è altro che un ragazzino come tutti quanti gli altri, non è un mostro. È un bambino come tutti quanti gli altri, un ragazzo che magari non rispetta le regole. Quindi bisogna andare a monte a capire perché lui non rispetta queste regole. Perché magari non gli sono state spiegate, non gli sono state propinate nel modo giusto o perché magari, come diceva lei, ha dei disagi che possono essere dei disagi personali, familiari, sociali o perché magari sta aderendo a delle regole di un gruppo che lo devia dalle buone regole. Quindi un genitore che viene coinvolto anche in qualità di genitore del bullo deve assolutamente entrare nel problema, capirlo alla radice per aiutare il suo figlio. Sono tante le iniziative che sta mettendo in campo lei, diciamo come dirigente della scuola insieme alle insegnanti e c'è questa voglia di dare ai ragazzi un'opportunità diversa, un protagonismo sano? Sì, i ragazzi in quanto tali hanno diritto a tutte le opportunità che hanno e che comunque la pubblica amministrazione, in questo caso la scuola, può e deve mettere a loro disposizione. Lo facciamo insomma grazie al supporto dell'intera comunità educante, il corpo docente, un corpo assolutamente di una sua professionalità indiscussa. e quindi ma oggi raccogliamo anche il supporto insomma di un'intera comunità locale anche che ci sta vicino e quindi ci dà una grossa mano nel nostro intento. Insomma si può uscire da qualsiasi forma di legalità e soprattutto costruire un gruppo di ragazzi, di giovani che conoscano il significato della legalità e soprattutto la metterlo in campo? Si può e si deve uscire, questo è il nostro obiettivo, ci crediamo, lo stiamo facendo lo stiamo facendo insieme a tutti e vogliamo continuare a farlo perché il nostro obiettivo è quello creare le condizioni perché ci sia la consapevolezza che un mondo migliore è possibile. C'è una frase molto bella di Corrado Alvaro, la disperazione più grave che possa improdonirsi di una società è che vivere onestamente sia assolutamente insomma inutile, ma non è così, non è così e dobbiamo sconfiggere questa credenza, dobbiamo sconfiggere questi preconcetti e pregiudizi e continuare nel nostro intento.